moto ci sei bottore il game di prima ma subito su youtube tu 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 ma regà non interrompiamo questa incredibile streak abbiamo fatto 4 su 4 e 3 su 4 bro ci sono io con denu penso che può andare ancora meglio la storia ma c'è aldone non ha fatto il pip come stai bell'uomo ben amo saputo che è un fratello ci sono rimasto male quando l'ho scoperto però ho un fratello di 40 anni e una sorella anche pazzesco incredibile la vita ma soprattutto dove cazzo sono i generatori a bre quello con la baionetta o no c'è la mamma allora cazzato come lo c'è sia questo qua che parla è impossibile raga il cacciatore su sta mappa per lui è una merda ceftoni dici e paura ma le bette le facciamo aprire o no è una situazione ma ma scherzi un posto libro sa che ce l'ho ancora io comunque se noi sto facendo il coso il gen non ti devi curare questa sono ti muoci muori bro ma c'è cazzo è bro una mira infallibile ma già ne stai trovando e quello lì dietro io il problema è che fin quando non attaccano gli si toglie con l'aborto lì a minchia c'è già qualcuno vicino che non ci sta da bove più vicino che ma visto però scendere di nuovo se lo vedete andare nella zona di idea di sinistra non ci credo vieni matti corri t'ha sparato in faccia dai ma attraverso la roba ma che è stronzata e è vero sta tutto bello incecchinato ha sparato mentre ho fatto fatto l'angolo incredibile cosa facciamo sto motore matti sto qua dietro di noi ma ce n'è uno raga era praticamente finito dove stavate mannaccia una p***a una p***a da terra recuperati recuperati si si stava facendo sto facendo vai tu salvarlo vero è qua da me mi sta a non l'ha tirato su a vai lupa 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 mi verrà a prendere adesso siamo rotto il gancio si si vera ti libera tipo liberarti da gian cancio vicino ma però prendiamo quello fuori la fai no se non altro più vicino matti che io vedo i gen con deja vu e allora guidami di perfetto c'è anche speed no no speed no non ce l'ho assisto nel farvi sono messo poco e si 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 infatti papà papà sta arrivando al generatore di aldo ok sta salendo da voi arriva 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 salgo su vabbè tu salva il mio aldone bel pelatone ma io un po di tempo arriva ma io lo porto via che decisamente fermo che ti ti resto si si grazie ce l'hai dimmi settore indietro non ho visto che brutta giocata qua c'avevo il totemi che mi arriva la tema ti mi sa aspetta bravo nasconditi no mi prende su ok mi prende su prendiamo il tuo aldone che ho visto che arriva l'ho messo bene no stanno andando in mezzo vai ma tanto c'è il perk bro c'è il perk del del barbecue no 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 il perk che l'entità blocca il gen a sia in passe occhio vabbè qua noi abbiamo finito dovresti riuscire a fare tranquillamente perché io da gabbo andiamo noi e devo andare io occhio grazie matti dici porco spavetto ce l'avevo sopra ce l'avevo so salito che eravano si gestiona si gestiona un po raga io ho finito il generatore facciamo ce lo questo è c'è anche determinazione di no no non sono più lo tolto è finito rega dove siete e ne stiamo con genne gioia e aldo stai scese caro trova in altro volevo dare una mano ad aldo no e non puoi che non c'è poco da perdiamo solo tempo che ora mi matti cura mi sono a 99 mette sopra si basta che vengono a prendere ok si questo è tuo mannaccia la p***a ok stanno ando via farà venendo qua da noi sicuro si 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 ma ce la sarà la sua sinistra è passato dalla destra a destra ok arrivo g vai 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 vendito del pallet raga bravissimi tiri e tiri resto fermo buttato il pallet qualsiasi cosa mettiti davanti a me e fammi tankare a me aldone ormai tu rimango in zona che se in difficoltà ti salvo nel senso se ci insegue ti metti davanti a me mentre corriamo ok perfetto pulito dovremmo averne uno qua di generatore aldo vai ma ma da ma li sono caduto sopra ma che sfiga non ci credo dovrebbe essere qua ma ma mia che sfiga però mi sa che ti ha lasciato perché cerca me si buono dai ti vengo a cura sei sempre lì si sono ma è sotto di mano e lo vedo lo vedo arriva il pallet buttato è destra destra dovrebbe essere gioccolato da qua però è buttato prima è lui qui mi sa però devo occhio sotto di noi c'è che non c'è un cazzo di gen sono 0 ma dove cazzo è il gen qui scusa ma io li vedo quando dicevo ce n'è uno all'esterno proprio sotto destra vai piano è niente vai prego come è possibile voi voi ragazzi cercate di attirare l'attenzione tunnelarlo visto che comunque potete ancora farlo arriva eccolo arrivo arrivo ok portatelo via portatelo via l'arrivo uno qua sopra vieni vogliamo farne due bro tanto ce n'è uno qua è difficile è difficile arrivare qua sopra il fatto che l'altra metà no ma ma preso ragazzi da dietro l'angolino vabbè il fatto che adesso adesso davanti a noi è sceso e fate il giro da fuori raga ce la fate tranquillamente non posso passare vando a riga chi va io l'anna vai du vai a era la mia destra raga ma io sto stronzo non è un altro di voi perché sta inseguendo gamba ormai ne vieni gamba è già rischio da sta roba ti tanko io il colpo ma è no è morto gamba mi si si bro sul secondo gancio voi fate il motore si si no devo rimanere qua sopra non sto facendo lo sto facendo arrivo e no raga devo dobbia dove deve andare raga è importante che voi fate il motore che perdiamo se continuano a fare così infatti chi c'ha il killer deve andare io c'ho adrenalina delu io c'ho adrenalina non è possibile di salvarmi delu sto arrivando anch'io verso i dei aldo rimani in quel tempo in quel rimango al generatore sì 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 tanto tra un minuto al do finisce il motore appena puoi no aspetta a finirlo aspetta 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 ed è lui bisogna salvare delu appena l'ho prima deve 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 farsi i cazzi suoi e gli altri devono andarlo arrestare perché se non è un problema allora matti io sono in seconda vieni tu vieni tu se riesci e devo fare il gen raga a bro se facciamo così guarda che perdiamo non fa lo gen fallo che tanto il treno a me funziona anche se sono appeso vai 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 adesso puoi fare il motore tirammi su tirammi su poi ma ti campra dalu no 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 è sceso cazzo è sceso è sceso sì veloce 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 vai 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 via fuori dal cazzo fuori dal cazzo ok rega al gate chi va tutti vanno a dividersi dobbiamo tra i gamba si io solo io sto aprendo male a dove in principale noi siamo all'altro dietro ok si vedete nella funzione da appeso hai visto che lei lo è curato ma bis non devi essere a terra per non fa per noi abbiamo aperto qua è ma bis non so quale cazzo è aperto dove però dietro via nel retro non davanti aspetta che venga da una mano tra fai ma è sì dimmi dov'è vieni e vieni dentro dentro vieni dentro vai verso destra appena entri destra anche io c'è vai 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 tanco io animati vieni seguimi dritto a sinistra seguo e seguo oggi ma presto ci credo via fuori dal cazzo passa passa passate via 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 tanco io vedo dietro a tutti anche io vai tanco io tanco io vai tanco io poi andiamo ai taggi bravi raga bravi bravi dalla parte opposta figlio di p***a è un colpo vai 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 che sono non è detto poi che è successo capo per lui vai 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 mi hai salvato la gamba ma non sei uscito sarei morto il treni è famoso trenino del tec riguarda che il killer con queste cose ma impazzisce eh sì ragazza si è giocata benissimo minchia raga ma che cazzo di team abbiamo messo su e il pippo portato anche a casa pippo portato a casa quante pippe uno solo lui ragazzi vedi buona persona più onesta del mondo gg gg ma un killer quando vede sta roba non deve flammare che cazzo di perca a lui era immuno all'accecamento questo è un killer che aveva cosa nato dalle tenebre preso l'uccello aldo cari tra partite ma l'ho fatto ultimo però vabbè ha fatto cacà ma ma peso due volte all'inizio bestemmiare la madonna però non è bene